Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo mod review Quella che andremo a trattare oggi è la necromancy mod Prima di partire però voglio scusarmi con tutti voi se non stanno scendo molte mod review Ma non ho tanto tempo e al contrario di quanto potrebbe sembrare Ogni mod review richiede molto tempo e c'è un grande lavoro dietro Quindi anche per la mod review più semplice che potrà sembrare una cavolata di Cibonda e attacco il registro Non è così perché ci vuole una grande preparazione Detto questo direi che possiamo partire con la mod review Come vi ho detto la necromancy mod mi è stata consigliata da Umberto E niente, è una mod molto interessante che ho deciso di fare appunto perché è diversa dalle altre mod Ciò che ci permette di fare è appunto ci permette di creare i nostri veri e propri mostri Che ci aiuteranno a combattere contro i mostri eccetera eccetera Per mostri cosa intendo? Potremmo creare tramite dei vari attrezzi dei veri e propri mostri composti da delle sorte di Frankenstein Potremmo creare, vi faccio degli esempi Un mostro con la testa da ragno, con il busto da zombie, le gambe da creeper e le braccia da scheletro Potremmo creare dei veri e propri mostri con tanti pezzi di mostri diversi Quindi cose molto carine Quindi piano piano vi mostrerò le varie recipe, come farlo eccetera 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 Quindi direi che possiamo partire Quindi partiamo Allora la prima cosa di cui avremo bisogno ovviamente è il bone needle Questo è fondamentale per la creazione di un qualsiasi mostro Ci servirà sia adesso per raccogliere il sangue che più avanti per altre cose Per craftarlo avremo bisogno del bone meal Quindi prendiamo il nostro bone meal e craftiamoci dei bone needle Vi faccio presente che servono tante bottiglie e anche tanti bone needle se non andate da nessuna parte Quindi procuratevi tanti bone needle e tante glass bottle Una volta fatto questo dovrete trovare un mob Io adesso so già che qui c'è una pecora perché l'avevo vista prima Andate dal vostro mob passivo, quindi che sia un maiale, che sia quello che volete E premete il tasto sinistro, quindi attaccatelo e vedete che creiamo delle bottiglie di sangue Quindi create un po' di bottiglie di sangue, non è importante quante Basta che avere creato, cioè sia importante quanto ma createvene giusto un pochino, quante volete Insomma, io adesso in questa cosa direi che 24 bastano Torniamo qui E quindi niente, torniamo qui Però il prossimo step per le nostre creazioni è il Necronomicon Questo sarà un libro che ci permetterà di creare la struttura principale Dal quale potremo creare e assemblare il nostro mob Quindi procuratevi una Jerof Blood e tutti questi item e createvi il Necronomicon In questo caso io lo prendo Perché appunto ce l'ho già qui E vi serviranno anche due pezzi di cobblestone e un pezzo di wood Quindi procedete a prendere queste tre cose e creiamo la nostra struttura principale per assemblare i mostri Per creare la dovete piazzare due pezzi di cobblestone così Un pezzo di wood così E dopo dovete cliccare col tasto destro con il Necronomicon Adesso vediamo se ci riesco Perché ha un po' di bug questa Ecco qui Potete vedere che è un po' difficile E quindi abbiamo creato così il nostro altare nel quale potremo creare i nostri mostri Continuiamo quindi con la mod e passiamo a vedere come creare il resto Allora La seconda cosa che vi ci servirà per Che sarà un'altra delle cose fondamentali per poter creare i nostri mostri E sono le anime Le anime dei mostri appunto Quindi avremo bisogno della nostra falce Dovete crearvi questa falce che si crea in questo modo qui Quindi potete vedere che vi servirà comunque sempre il sangue Sono comunque cose Cioè è una sorta di scaletta Quindi ogni cosa serve ed è necessaria per creare il resto Quindi ovviamente non potete saltare nessuno di questi step Una volta creata la vostra falce Dovrete uccidere un po' di mob Adesso in questo caso io non ne ho tanti qui vicino Quindi mi procurerò qualche mob tramite la creative Perché se no sono fottuto Quindi vediamo di passare in creative Qualche sponiamo qualche pig Qualche maiale Quindi adesso game mod 0 Eccoci qui Eccoci quei belli maialini Dovete sacrificarvi Potete vedere che lì è comparso Bottle E la bottiglia di Oh povero maialeno Lo sai che morirei per una giusta causa Ok Oh cazzo Ok torna qui Bastardo bastardino Dove vai E quindi niente abbiamo 7 soul in a jar Che ci serviranno appunto dopo per la secretazione Intanto metto questi da parte Questi li tengo qui insieme alle bottle of blood La falce ormai non ci serve più La rimetto al suo posto E Metto via anche questa carne che non ci serve E vedete che mi ha droppato anche dei cervelli Che vedremo dopo a cosa servono Quindi anche questi qui li metto da parte Perché per ora non ci servono La seconda cosa che ci servirà E' La sewing machine Che sarà la macchina che ci servirà per costruire la pelle E questa macchina sarà necessaria per costruire braccia Gambe Braccia e gambe Testa e tutti i vari pezzi del nostro mostro A prescindere da quale esso sia Quindi non importa se sia uno zombie Qualsiasi cosa sia Ci serve questa macchina Quindi createvi questa macchina che si crafta appunto in questo modo Con dei bon needle Delle string e un po' di ferro Createvi questa macchina Adesso io provo e vedrò a piazzarla Magari Anche su un blocco Così fa più figo Perché se no Un blocco di diamanti Perché mi sento figo Facciamo un blocco di Perché ho scritto di ama Vabbè Piazziamola qui Qui La nostra bellissima sewing machine Direi che ora possiamo mettere via Rimetto la sewing machine al suo posto Ok ci siamo E adesso abbiamo praticamente finito La parte di preparazione alla costruzione dei nostri mob Adesso dovremmo semplicemente costruirli e assemblarli Prima però c'è un'ultima cosa Che potrà Un'ultima recipe importante Che possiamo appunto creare Dei brain on a stick Possiamo creare brain on a stick Che sarebbe Usando una fishing rod E del cervello Possiamo creare questo oggetto qui Che ci permette di comandare Appunto i nostri mob E quindi fare in modo che ci seguano Un po' come succede con i maiali Con la carota Appunto sulla Carota on a stick Come cacchio si chiama Non mi ricordo E niente Questi qui sono le recipe fondamentali Per tranne l'ultima Che è facoltativa Sono le recipe fondamentali Per creare i nostri mob Adesso passiamo a come creare i nostri mob Per creare i nostri mob Avremo bisogno della pelle Adesso non ne ho a disposizione Però vi faccio vedere Aspettate Mi serve tanta pelle E dovremo procedere Nella nostra sewing machine Ci serviranno anche tanti Come si chiamano? Bone needle Vi serviranno tantissimi bone needle E anche Delle string Ovviamente Perché anche quelle sono fondamentali Quindi procuratevi Della letter Ossia della pelle Dei bone needle E delle string Una volta che vi siete procurati questi Mettiamo via queste bottiglie Che non ci servono Mettiamo questa roba qui Così siamo Medio Ok Andate su questa cosa qui Mettete delle string I bone needle E mettete la pelle qui Così facendo potrete creare Come vedete La skin Create un po' di skin Adesso ne creo Due stack Le dovrebbero bastare E mettiamo a posto le string Che non ci serviranno più Se non erano Quindi Mettiamo di nuovo Via queste cose Mettiamo qui Adesso Dovremmo creare I veri e propri pezzi di mostro In questo caso Non mi ricordo precisamente Le recipe Quindi le controllerò da qui Le ho preparate E questo qui è la recipe Che serve per creare Appunto il cervello Al posto di questo Slot vuoto Dovrete mettere Il pezzo di mostro Che desirate creare Ossia Se voglio creare Vi faccio un esempio Voglio creare La testa di creeper Metterò della gun power In questo punto Se voglio creare la testa di zombie Metterò della carne a marcia In questo punto Se voglio creare la testa di Che ne so Di spider Metterete delle string In questo punto La stessa cosa vale Per tutte le recipe Quindi anche per Questa qui Che è il torso Ossia il busto Dovrete mettere Al posto di questi due slot vuoti Il pezzo di mostro Che desirate Quindi O mettete Della carne a marcia O mettete Delle string O mettete Quello che volete Non cambia nulla Quindi Adesso Detto questo Io procederò A fare La recipe Quindi adesso Devo cercare di memorizzare Perché È un buon problema Aspettate un attimo Che mi prendo il necessario Metto via quello che non serve Mettiamo via questo Prendiamo il necessario Vediamo un po' cosa serve Skin ce l'ho E il cervello Giustamente Questi qui sono dei Non vi ho detto Ma ve lo dico adesso Per ottenere questi Pezzi di Mostro Ossia I muscoli Il cervello Il cuore E i polmoni Vi serviranno Vi servirà a uccidere dei mostri Quindi andate in giro Cominciate a uccidere mostri E vi Procurrete Appunto il necessario Ossia Tutti i vari pezzi Di mostro Ossia cuore Polmoni Eccetera Quindi una volta che vi siete procurati Tutti questi Questi Il necessario Diciamo Dovrete appunto Costruire E assemblare Il vostro mostro Quindi adesso Io in questo caso Mi prendo Solo il cervello Perché Non mi sembra ci voglia altro E mi prendo anche Facciamo io una testa da ragno Dai Giusto perché Così Quindi adesso Andiamo nella nostra Sewing machine Piazziamo Tutta la pelle La recipe Come era indicata lì Quindi In questo modo Dovrebbe essere Se Piazziamo Il nostro cervello Qui I nostri Occhi di ragno Qui I nostri string Qui Mi prendo Una string E piazzate La string qui In questo caso Dovrebbe farvi Dovrebbe crearvi La testa di ragno Non vedo perché Non la sta creando Perché non la Ah giusto Giustissimo Stavo dimenticando Dei buon needle Ovviamente Non la riuscivo a creare Quindi eccoci qui La spider head L'abbiamo creata E niente Abbiamo creato La nostra spider head Quindi adesso Abbiamo il nostro primo pezzo Di assemblaggio Adesso ci serve il resto Quindi adesso Andiamo a creare Il torso Va messo così Non come ho fatto io Stupido 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 Sono stupido Stupido La resaip Dovrebbe essere così Se non erro Ecco Ora funziona Ho sbagliato La resaip Ovviamente Non funzionava Quindi adesso Abbiamo il nostro torso Da zombie Siamo a due pezzi Su quattro Ci mancano altri due pezzi Mettiamo gli a queste bottiglie E cosa ci manca adesso Ci mancano le braccia Quindi io direi di fargli Delle braccia Da 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 Facciamo le braccia Ovviamente le braccia Da cripto Non potete farle Facciamo delle braccia Da scheletro Quindi Le ossa ce le ho già E procediamo A fare le braccia Quindi così Così Perfetto Mi saranno i muscoli Facciamo a fare le 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 braccia Quindi facciamo così 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 E Mancano Soltanto La mettere Due ossa Qui ovviamente Perché voglio fare Ah Giusto Giustissimo Giustissimo Mancano Mancano i muscoli E poi due ossa Qui E quindi adesso Ho un solo Scheletro No Scheletro Sì Ho un solo Scheletro Nars Quindi dovete farlo due volte Se desiderate avere Due braccia Da scheletro Quindi io in questa cosa Voglio averne due Faccio due volte E Se non ricordo male Era così Quindi Così Così Mancano dei muscoli Qui Ed eccoci qui Con le nostre due braccia Da scheletro Manca soltanto Il Le gambe Le gambe Cosa possiamo fare Fami pensare Le gambe da 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 creeper Dai Facciamo le gambe da creeper Quindi mi serve Della gunpowder E si fa Così Quindi Esattamente Inverso Ok Perfetto E della gunpowder Devo procurarmi Della gunpowder Eccolo qui Ok Procediamo a farlo Così Così Se non erro Sì Poi si fa Così 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 Mentre ad esempio Sono molto varie Come avete visto Quindi Oh cazzo Menomale che sono in creative Mi sta avendo un infarto E Un muscolo Se non erro Ok ragazzi Ho scoperto Qual era il problema Semplicemente Ho creato delle gambe Invece che delle braccia Prima E quindi di conseguenza Non ho la possibilità Di creare Delle Braccia da creeper Perché ovviamente Non esistono Neanche delle braccia Da Ovviamente Spider Quindi È stato un errore mio E Quindi adesso Stiamo creando le braccia Questo è per creare Le braccia Quello che avete visto Prima invece era per creare Le gambe Quindi Facciamo gli delle braccia Da 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 zombie Perché è l'unica Che mi viene in mente Facciamo gli Gli metto il doppio Cosa mi fa Due braccia Da zombie E gli metto quindi Di conseguenza Due 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 E Due Fantastico Ora Ora ragazzi Abbiamo a disposizione Tutto quello che ci serve Per creare Il nostro Zombie Il nostro Mostro Mostruoso Mettiamo via tutto Perché non ci serve più niente E Questo qui Quindi era come si crea Come si crea appunto Il nostro Mostro Adesso Dobbiamo andare Adesso tornano in gioco Le soul In a jar E i jar of blood Che ci serviranno ovviamente Quindi andiamo nel nostro Il nostro tavolo da lavoro E dovremmo mettere Alla nostra sinistra Le cose Le bottele di sangue E alla nostra destra Il jar Solo in a jar Quindi Una volta messi Posizionati questi Dovremmo inserire I nostri pezzi di mostro Quindi in questo caso Ah in questo caso Evidentemente No no È giustissimo così Perfetto E Zombie torso E adesso possiamo vedere La nostra creazione malata Con una review Una pre-review qui Che a volte è bugato Giustamente Comunque Adesso Procederemo a crearlo Vediamo come esce Dovete premere shift Tasto sinistra Tasto destro Mi sembra Sì Eccolo qui Ok Ok La review a volte Potete vedere che è bugato Adesso si è creata bene E questo è il nostro Mostro Il nostro Bellissimo Minion Che ci seguirà ovunque Sembra molto Minaccioso Dove vai? Attenzione Vediamo come Combatte contro lo scheletro Lo butta giù ragazzi Bravo bravo amico Ti darò da mangiare Sarai il mio migliore amico Ok Vieni con me Potete vedere che potete creare le vostre Le vere proprie Le vere proprie Creazioni Mostruose Che vi aiuteranno Nei combattimenti In questo caso Questo è il mio E Premendo il tasto destro Potete stare fermo Come un cane appunto E col tasto destro di nuovo Premendolo Potete Seguirvi Adesso ho intenzione di Sbizzarrirmi un po' Farvi vedere Cos'altro si può creare Quindi adesso Mi procurerò tramite creative Tutti gli altri oggetti E vedremo un po' Cosa si può creare Vi ricordo che queste recipe qui Sono semplicemente Recipe di base Poi al posto di questo Slot watch Dovrete inserire Ovviamente il pezzo Che rappresenta Il vostro mostro Quindi Se è uno zombie Della carne marcia Se è un creeper Della gun power Se è un ragno Delle string Se è un creeper L'ho già detto E cos'altro rimane Se è uno scheletro Ovviamente Delle ossa Quindi Le recipe sono Quelle le solite Non starò a mostrarvele di nuovo Mi spavano semplicemente Le cose tramite creative Quindi Che ne so Facciamo di via questi Che non ci servono più Vediamo a creare Il nostro bestie con La testa da creeper Torso da zombie Braccia da Eh si gambe da ragno E braccia da enderman Sarà una cosa assurda Non si immaginare Oddio Che roba strano Ok ok Oh cazzo Ciao amico Ok E' mezzo buggato Unisciti alla festa Vieni qui Cavo cammina anche Con le braccia Fantastico Cammina con le braccia Fantastico Vieni con me Vieni Oh vieni con me Amico Fa paura Come cosa Fa paura Decisamente Amico Ti sei buggato Se hai buggato Il mio minion Potremmo ovviamente Anche uccidere Il nostro minion Ma non è obbligatorio Quindi direi che Wow E' bellissimo Quando hai buggato Direi anche che possiamo Passare a creare L'ultimo Vediamo cosa posso creare Oddio Da dove è uscito L'ultimo Cosa facciamo Dai Sfruttiamo un po' I pezzi Che abbiamo già qui Non mi va a distrarli Prenderli Facciamo una Testa da No Come fare una testa da zombie Head Testa Testa da zombie Vai Testa da zombie Un braccio da Scheletro Un braccio da zombie Poi Torso da Non lo so che Adesso vediamo Adesso facciamo Un torso da Enderman Sì dai Proviamo un torso Un torso da Anzi Sì un torso da Enderman Vai Ok Torso da Enderman E le gambe da Scheletro Proviamo così Ok Vattene via Cazzo Non è levati dai coglioni Ok Creati Creati Ok Ne ho creati due Vieni amico Oh Guardate Ne ho due Wow Ok Sta andando un po' Tutto quanto A puntane Fantastico Comunque potete vedere che potete creare dei veri e propri mostri creati come preferite Eccetera Devo dire che il mio preferito rimane Rimane il primo che ho creato Guardate come si dà da fare per ammazzare i mostri Bravo Segui Seguimi Seguimi Vieni Ok Quindi questa qui era la mod review della necromancy mod Spero di essere stato abbastanza chiaro Ovviamente poi Taglierò tutte le parti dove sono stato poco chiaro Perché ci ho messo veramente tanto a spiegare tutto Perché Sono stato anche Mi sono anche un po' impappinato Eccetera Quindi Niente Tutto qui Questa era la mod Spero vi sia piaciuta In settimana ne arriverà anche un'altra Che ho in mente di fare Quindi Alla prossima mod review E ciao a tutti Ciao a tutti